Investire in una maggiore tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, migliorare la cultura della prevenzione dei rischi, sperimentare buone pratiche, integrative e migliorative anche al di là degli obblighi previsti per legge. Queste le finalità del Premio Sicurezza sul Lavoro 2023 promosso dalla Federazione Nazionale Maestre del Lavoro delle Marche e dalla stessa Regione Marche. Sicurezza sul Lavoro che nell'ultimo anno ha visto distinguosi in particolare 5 aziende, una per provincia meritevole del premio assegnato oggi alla RBM Tech di Fano, all'Eurotecnica di Osimo, alla FAPI di Montelupone, alla Dami di Sant'Elpidiamare, alla Panicchi di Ascoli Piceno più un premio speciale assegnato alla Buffarini di Falconara. Riconoscimenti applauditi dall'assessore regionale Aguzzi. Magari spesso passo un po' sotto traccia, in questa situazione si parla spesso di crisi aziendali, si parla di ripresa, si parla di investimenti e non sempre si parla di sicurezza sul lavoro che accompagna invece tutto questo percorso e lo accompagna spesso in maniera purtroppo molto dolorosa con molti incidenti, seppur c'è, e questo non ci deve consolare, però c'è una minore incidenza sui nostri territori anche nella Regione Marche, c'è un calo di incidenti, però comunque sono ancora purtroppo numerose. C'è anche un aumento di alcune malattie professionali, quindi non va assolutamente abbassata la guardia. Con grande soddisfazione vediamo che c'è un riscontro a questa iniziativa perché la sicurezza del lavoro è molto importante, poi se si tiene conto quello che leggiamo in questi ultimi periodi sulla stampa degli incidenti mortali sul lavoro c'è da rabbrividire, per cui noi sollecitiamo sempre di più la massima attenzione alla sicurezza sul lavoro.